Quest'anno la maggior parte di voi verrà bocciata! Prof, ci sta forse dicendo che lei non sa fare il suo mestiere? 3, 2, 1... Happy New Year! Ciao Boia, cosa stai facendo? Nulla di che, ammazzo il tempo! Sei diverso, non vogliamo stare con te! Razzisti! Stai perdendo i capelli! Ti sei fatto Harry Potter! Sai che sei un rompivalle? Ciao Dardo, sei in forma! Eh sì, vado in balestra! Ecco come imparo l'inglese! Non lasciarmi, posso cambiare! Dimostramelo! Adesso sono diverso! Dottore, qual è la sua tariffa? 150 euro a seduta! Allora resto in piedi! Come mai avete la corona? Siamo regali! Conosci Mario, quello che lavora all'anagrafe? Sì, abbiamo un amico in comune! Dovresti provarci con Giulia! Mi manca il fegato! Sono depresso perché non so se trasferirmi al Polo Nord o restare al Polo Sud! Credo che lei soffra di bipolarismo! Com'è andato il 2020? Allora, sono ancora single! Sono ingrassato, ho finito i soldi, ma almeno lei non mi ha abbandonato! Ciao Dracula! Scommetto che stai mangiando i fiocchi d'avena! Come mai sei trasparente? Sono il fantasma di un crostaceo! Mi chiamo Lara! Quindi sei Lara Ghost! A scuola sono uno che conta! Veramente? Sì, le ore che mancano per uscire! Rette parallele! Vuoi metterti con me? No, io e te non abbiamo nessun punto in comune! Perché qui alla CIA non riesco mai a trovare il bagno? Perché sono servizi segreti! Sono sempre felice perché riesco a vivere il momento! Come ci riesci? Per me è facile, sono un presente! Gli amici negli anni 2018 2019 2020 2021 Bau! Miau! Abbiamo rapito suo figlio! Vogliamo il riscatto! Perché? La prima foto è venuta male? Lo sapevi che nel mondo a ogni mio respiro un uomo muore? Cavolo! Hai dei grossi problemi di arito! Ho comprato il libro Ridi che è meglio Ma non va bene per noi muri Perché? Fa crepare da ridere! Ciao amiche e amici Se non siete dei muri Vi straconsiglio il libro Ridi che è meglio Sono 144 pagine di battute a fumetti Collegate da un gioco a Bivi Lo potete acquistare in tutte le librerie In tutte le fumetterie E online Inoltre vi ringrazio per aver visto il video Mettete like Se raggiungiamo i 16.000 Pubblicherò anticipatamente un nuovo video Ciao ragazzi! Chi è il colpevole? Harry Potter? O Voldemort? Ho dipinto 33 quadri! Giocavo a Magic!